ragazzi è finalmente arrivato e sta registrando questo video 4k a 60 fps con la grande angolare ebbene sì è arrivato s24 ultra colore titanio quindi proprio il colore top di quest'anno lo volevo il viola ma onestamente c'era solo questo mi strà contento anzi devo dire che è molto molto elegante il video di oggi saranno le mie prime impressioni con questo smartphone dopo circa 48 ore di utilizzo un pochino meno vi dirò intanto le cose sbagliate che ho letto in rete vi dirò alcune chicchette dello smartphone vi farò vedere che cover ho preso in emergenza su amazon ho scelto un ilago al volo trasparente con makesafe che secondo me merita ho ordinato anche i vetri perché finalmente abbiamo uno smartphone samsung con il display piatto e ragazzi beh ci sono tante cosine da dire in queste 40 ore circa con galaxy s 24 ultra mettetevi comodi come sempre mi raccomando sostenetevi con il tasto like qua sotto condividete il video con i vostri amici e iscrivetevi al canale youtube perché sennò vi perderete tutti i prossimi video siamo pieni di review ragazzi non vi dico nient'altro iniziamo subito beh ecco ragazzi intanto vi faccio vedere la cover che ho scelto per proteggere il telefono visto che è nuovo e non volevo che si spaccasse settimana prossima devo partire quindi la cover secondo me è una cosa che bisogna assolutamente mettere all'interno questi smartphone nuovissimi allora vi dicevo è di elago che non mi paga per dirla anzi l'ho comprata l'ho comprata la cover vi dicevo è di elago che non mi paga assolutamente per dire niente per farvela vedere ma l'ho comprata io su amazon l'ho scelta perché comunque vedete va a proteggere secondo me in maniera ottimale lo smartphone lo ingrandisce un po vi devo dire la verità è fondamentalmente un design così sarebbe bello utilizzare senza cover visto che finalmente non abbiamo i bordi curvi però ragazzi no mi almeno per il primo utilizzo me la faccio un pochino sotto la cosa che mi è piaciuta è che comunque per 16 euro circa abbiamo buona protezione buoni materiali anche rigidina nei bordi e poi soprattutto è compatibile con tutti gli accessori make safe e io sono un utilizzatore dal cavalletto dal power bank dal supporto per guardare i film adoro il make safe e quindi vedete già integrato all'interno della cover secondo me merita vi lascio il link in descrizione eccoci qua ragazzi giornata meravigliosa oggi fuori c'è un sole incredibile ma c'è anche un vento pazzesco fa un freddo cane però bene così nuovo giorno nuova corsa e finalmente vi posso parlare di lui quindi delle prime prime 24 ore con questo samsung galaxy s 24 ultra allora intanto voglio iniziare a dirvi una cosina ho letto chiaramente i vostri commenti ho letto che il 70 per cento di voi utenti reputa inutile questo smartphone come il 99,9 per cento reputano inutili s24 ed s24 plus allora partiamo dai più piccolini intanto ragazzi exynos 2400 so bene com'è il passato so bene quello che appunto abbiamo passato insieme però voglio dire che giudicare un prodotto senza nemmeno averlo provato solo così a prescindere è sbagliatissimo altrimenti io vi dico che oggi è sabato è il mio giorno libero dopo una settimana fatta di non so quante recensioni non so quante chiamate non so quante ore di viaggio cioè me ne potrei stare tranquillamente a casa a fare i cazzi miei con la mia famiglia con mio figlio e invece no sono qua a fare il video di sabato mattina alle nove e mezzo lo devo montare per voi quindi vedete anche da parte mia non è che interesse di più nel proporvi e soprattutto nel raccontarvi prodotti in maniera totalmente gratuita perché voi non spendete un centesimo sulla mia fatica quindi cambia niente non è vero assolutamente in più come vi ho detto le cose vanno prima provate s24 ultra intanto voglio farvi una precisazione che è questa sette anni di major e sette anni di patch quindi tutte le news uscite e le patch e i major sono cinque le patch sono sette no c'è stato il comunicato ufficiale di samsung le patch sono sette gli anni come i major update quindi esce con android 14 e verrà supportato per sette anni altra cosa l'intelligenza artificiale arriverà sugli altri modelli quindi su s23 s23 plus s23 ultra one ui 6.1 quindi gli smartphone supportati che avranno la one ui 6.1 anche i fold anche i flip eccetera eccetera implementeranno tutte le figate dell'intelligenza artificiale che avete visto su s24 ultra durante la preview altra piccola cosa che non si è vista i video in 4k possono essere girati a 120 fps solo ed esclusivamente in modalità pro quindi abbiamo questa funzione in più anche sui nuovi s24 ultra io partirei intanto da estetica e design che è comunque un punto fondamentale dello smartphone e sappiate che il telefono non è uguale ad anno scorso lato estetico lato design e lato grip a livello di giornata quotidiana ho messo la cover ma non vedo l'ora di toglierla questo perché non mi piace questo telefono con la cover avendo i bordi così squadrettati ragazzi senza cover è secondo me bellissimo tra l'altro il materiale è molto molto bello questa colorazione all'inizio non mi piaceva ma più la guardo e più secondo me è molto molto bella è uguale all'iPhone sì chi se ne frega vi dico io perché allora questo giubbotto ce l'ha anche Dario non se lo mette non può comprarlo no l'abbiamo uguale chi se ne frega poi ragazzi Apple è questa cioè se gli altri seguono è perché magari fa trend e chi se ne frega lo ripeto più che altro in questo video sono molto papale papale vi dico le cose così come stanno quindi estetica e design a me piace molto non al nostro avvolgimento e poi mettetevi in testa una cosa nessuno vi sta dicendo di passare ad s24 ultra se avete s23 ultra vi ripeto vi sto raccontando per gli interessati come va questo telefono ho configurato lo smartphone nei primi 50 minuti ha scaldato un po ma non vi preoccupate perché poi rientra tutto l'autonomia mi sembra pazzesca lo snap 8 gen 3 l'abbiamo già provato sul nubia che è uscito ieri sera è un'autonomia pazzesca e anche qua ragazzi ieri sono arrivato a 4 ore di display attivo uso misto wifi 5g avevo ancora il 60 per cento residuo soprattutto il stand by non cala niente quindi primo impatto sulla batteria è molto molto positivo altra cosa positiva la fluidità questo è veramente il samsung più fluido che io abbia mai provato ne parlavo stamattina anche con Dario che ci stiamo un po così mettendo a confronto sulla review ecco è davvero un treno ragazzi vi segue ovunque e proprio passare da un tempo all'altra ma le cose basi lo vedi cioè è fluido nelle animazioni in tutto quindi è stato fatto un lavoro micidiale aggiornato le patch di sicurezza di gennaio android 14 display piatto ma soprattutto oltre ad avere un display piatto che lo volevamo in tantissimi e ragazzi il pannello è cambiato è meno sparato rispetto all'anno scorso rispetto agli scorsi anni insomma è molto più tarato molto più equilibrato molto più un colore neutro secondo me e il display fa la differenza è cambiato totalmente rispetto all'ans21 s21 s23 io tanto l'ho provati tutti questo è il pannello più naturale che abbia mai visto su un galaxy vogliamo parlare anche di foto e video allora per quanto riguarda le foto e per quanto riguarda i video ragazzi secondo me e ve lo ripeto serve un update ecco perché io mi fermo a questo video non continuo a fare la recensione aspetto un aggiornamento software e farò la recensione questo perché a mio avviso c'è qualcosa da rivedere lato foto e lato video non è pronto lo smartphone oggi che sto registrando questa anteprima sono miei pareri personali quindi io mi sono confrontato un attimino secondo me la fotocamera può dare molto di più quindi le recensioni che usciranno secondo me ora perché tanto conosco chi butterà fuori le review sono troppo affrettate per un prodotto top di gamma del genere io mi prendo il mio tempo mi prendo il mio aspettare almeno un update software e poi vi dirò le mie conclusioni anche perché lo sto utilizzando come mio smartphone quindi voglio un attimino come anno scorso fare le cose con calma non mi corre dietro nessuno fortunatamente non ho appunto il fiato sul collo e quindi voglio godermi questo telefono al meglio così lo utilizzerò nei viaggi lo utilizzerò in ambito quotidiano in ambito lavorativo ambito foto video mi avete chiesto i social ragazzi li proverò ad oggi non l'ho provati quindi vi direi una cazzata durante la conferenza è stato detto che questo è il primo android e primo samsung a implementare le camere naturali sui social quindi avere veramente la possibilità di aprire instagram di fare una storia e di utilizzare appunto l'app senza dover registrare in post e poi pubblicare cosa che io ho sempre fatto e che faccio di base comunque anche con iphone pensate quindi beh io sono curiosissimo voi pure queste sono le mie prime 24 ore vi ho raccontato come va lo smartphone a 360 gradi vi lascio il box dei commenti aperto per dei commenti e soprattutto delle richieste sensate quindi il guerz anche per quest'oggi raga è tutto vi auguro un buon weekend è passato in serenità passato in famiglia come volete e noi ci sentiamo ovviamente nei prossimi video ciao a tutti ciao a tutti